stumbleguys ma ogni volta ogni volta che vinco sulla nuova mappa hot wheels hustle cambio skin natalizia prima che cosa di tutte buon natale che oggi è la vigilia e poi lasciate like e iscrivetevi e incominciamo ok ragazzi o guarda hot wheels hustle guarda che strano vai oggi guardano tantissime partite con il trusso hustle , grazie a tutti lai dai 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 No Ci stavano battendo E ci siamo qualificati Oh guarda La nostra skin è diventata Un pinguino Ok Ora faremo Un'altra partita Speriamo di vincenla Ok Iniziamo No Un'altra partita Un'altra partita Un'altra partita Un'altra partita Un'altra partita Un'altra partita Ok scusate ragazzi Me l'ho dedicato di La Position Riregistrare Dai Dai ragazzi No Penso questo non ce la faccio Guarda 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 Un'altra partita Un'altra partita Ma giocheremo Icx Quindi Da selezionare Icx Un'altra partita 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 ma non sono passato tutti perchè se è difficile perchè la fissi finisce subito ho già vinto bene ragazzi questo vuol dire che sono solo un grande nappo dai a parte gli scherzi un attimo ma io babbo natale ma io non ho vinto la partita vabbè io ce la faccio ma ora cambiamo le cose partita personalizzata tre round facciamo su block dash infinito e rimuovi tutto block dash accettare se rimuovi tutto block dash accettare se rimuovi tutto block dash accettare rimuovi tutto eh 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 ah è vero ma io ho l'abbraccio guarda 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 bagnettare oh 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 Grazie mille, ma sono in due, non ci credo, madonna, c'è un comasso in due, ma non ci vediamo in 5, penso che ci qualificiamo tutti, che vuol dire, ah no, qualificati, meno male, e ci siamo qualificati tutti, ora l'ultimo round, cosa sarà mai, block dash, ma guarda, Sì, 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 sì. E ho vinto con Babbo Navale Beh ragazzi Per questo video È tutto Vi ricordo sempre di lasciare like Iscrivetevi Condividete, commentate E per questo video Commentate cosa avete avuto per Natale E Alla prossima Ciao